Eccoci insieme con il Biancherosso TV Sport, ultimo segmento con Vito Petruzzelli. Intanto chiedo alla regia, noi stiamo cercando di collegarci con Cristian Siciliani, ma nel frattempo se possiamo far vedere le immagini della manifestazione che abbiamo ripreso ieri, ieri e avanti ieri. A Valenzano ci sono stati i campionati italiani di sollevamento pesi, una rassegna molto importante anche perché è già in proiezione giochi olimpici di Rio di Janeiro del 2016. Fra poco mostreremo le immagini, intanto avevamo un amico in linea, ma vedo che la linea adesso è occupata, quindi magari la recupereremo tra qualche istante. Allora, ricordiamo il calendario del Bari nelle prossime gare, abbiamo in Latina la rivincita, anche se è una rivincita strana perché insomma a dimostrazione di come il calcio sia imprevedibile, quello che lo scorso anno è stato uno spareggio per i play-off, stavolta è una gara di medio-bassa classifica. Beh, ultima in classifica, a parte la partita di stasera che deve ancora disputare, ma in ogni caso da aver fatto lo spareggio per accedere in Serie A oggi si trova all'ultimo posto. Aveva un grande giocatore in Latina, io ne ero convinto che senza di quello non sarebbe stata più la stessa cosa. Parlo di Jonathan, l'attaccante, era formidabile, tant'è che gioca nella Serie A spagnola, giocatore fortissimo, in Serie B un giocatore del genere e aspetta, aveva come riserva Jefferson che è un altro giocatore molto forte, cioè questi due giocatori inevitabilmente spostano gli equilibri, perché in Serie B deve avere poi quello che fa tanti gol, perché l'abbiamo visto anche nelle partite, il gioco è modesto, è difficile trovare una squadra che attraverso il gioco imponga la propria forza, ci vuole assolutamente un finalizzatore, molti gol nascono come è accaduto al Bari, partita di un anno mortale, poi calcio d'angolo, colpo di testa, gol, cioè il calcio da fermo, la palla inattiva è l'origine del 70% dei gol. Ma vedi Carpi anche in testa alla classifica, quasi tutte le partite sono risolte dalla punta Mbacogo. Il grande Mbacogo, vabbè, c'è una telefonata, pronto? Enzo, a grande richiesta sono ritornato, è tutto un macello, non ti capisci più niente, che ne sai tu. Ma che fine avevi fatto? Mi sono un po' scocciato e quindi non ho più chiamato, sto un po' sconsolato per questa squadra. Va bene, va bene. Volevo dire solo per me un aspetto tecnico, io dico che ci ha penalizzato molto Vendere Ciani e Giosilva, perché abbiamo delle persone molto basse avanti e quindi noi giochiamo con i cross e le palle di testa, chi le deve prendere? Ci vuole una scala? Ci vuole. Va bene, va bene, è tutto un macello, dici bene, va bene. Intanto abbiamo delle foto molto belle che come al solito ci ha reso disponibile Corcelli, sono le foto che riguardano l'esultanza, come sempre Nicola molto reattivo. Intanto questa è una bellissima foto, la foto del gol e qui Giovanni Roseto che festeggia da tifoso, come è nel suo stile. Qui la grinta di Nicola che obiettivamente è necessaria per svegliare una squadra che era... Io penso che proprio questa squadra abbia bisogno e stia facendo un percorso al... Guardate questa foto di Nicola, l'arte di capelli. Dicevo, sta facendo un percorso al contrario, nel senso che dal sentirsi grande la prima della classe. Ora sta ripetendo la lezione dalla prima pagina, non so se è chiaro. Pensava di poter essere prima della classe per quanto aveva acquisito nel passato, invece adesso è punto e a capo, sta riprendendo tutto da capo, è come se stesse ricominciando da zero dall'umiltà dei concetti più... come dire, più... dagli concetti empirici dello sport, del calcio e della vita forse, no? Muoversi con molta umiltà. Ma è la missione, chiamiamola così, la missione o il compito dell'allenatore attuale che ha capacità tecniche, comunicative, ma secondo me anche capacità psicologiche di trasmettere la sicurezza, la tranquillità, ma anche la determinazione, la forza a tutta la squadra. Però ti ha dato un segnale molto forte dando spazio agli ultimi, quelli che non giocavano mai, come dire, qui nessuno può sentirsi sicuro di giocare. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Gennaro Lugolafone. Ciao Gennaro, ciao, ciao. Guarda, vedere un gol di Minala è un peccato perché di quei gol quest'anno se ne potevano a fare molti, perché tante azioni, tanti cross, sia da direzione e da sinistra, non avevamo uno che la metteva dentro. Questo è un segnale positivo per la squadra che ha fatto degli errori. Quindi Minala centravanti, questo è il messaggio. Una prima punta. Va bene, grazie, grazie. In effetti, insomma, abbiamo visto molte cose insensate, come giocare sempre la pala alta per un centravanti alto che non c'è. Intanto io spero di recuperare in extremis il collegamento con Cristian Siciliani, perché ripeto, il Bari da oggi si allena la cittadella della Guardia di Finanza, San Paolo, e credo che fosse previsto anche l'arrivo del presidente Gianluca Paparesta, quindi mi piacerebbe prima del finale di questa trasmissione poter sentire da lui che aria tira, insomma, se la squadra ha cominciato ad allenarsi e se ci sono state altre dichiarazioni da parte del massimo dirigente del club bianco-rosso. Dicevamo dunque il finale di questo campionato, di questa stagione, di questo anno solare, perché adesso si gioca una partita dopo l'altra, c'è la partita contro il Latina, sabato, poi il 24, la discussa partita di Brescia, discussa perché, insomma, si gioca il 24, la vigilia di Natale, contro una squadra che è in balia delle onde, quindi calendario, Latina-Brescia strizza l'occhio, come dire, fate punti adesso, e poi una suggestiva sfida allo Spezia di Angelozzi che in questo momento è in zona play-off, terzo posto in classifica, quindi arriverà allo Spezia a Bari il 28 dicembre, quindi davvero un succoso fine anno, con la rivincita con Latina, la sfida della vigilia di Natale e poi il ritorno di Angelozzi. C'è un amico in linea, pronto? Sì, salve, buonasera, sono Maurilio da Bari. Ciao Maurilio, ciao. Finalmente riesco a prendere la linea. Voce nuova, squillante, piena di entusiasmo. Salve, allora, volevo farvi una domanda, cosa deve accadere per far sì che un portiere venga sostituito, tipo Donnarumma, perché gioca ancora titolare a Bari? E abbiamo in panchina un portiere con 470 presenze in carriera, 49 l'anno scorso, come mai non gioca a Guarna? Ah, lo devi chiedere, non lo chiedere a me, perché bisognerebbe chiederlo prima a Mangio e poi Nicola. Certo mi fa abbastanza, come dire, pensare il fatto che sia Mangia che Nicola si siano orientati sullo stesso portiere, vale a dire Donnarumma che la notizia forse più importante di Cittadella è che è uscito tre volte prendendo il pallone, perché effettivamente aveva mostrato grossi limiti proprio in quel fondamentale, quello delle uscite, probabilmente Nicola gli ha detto esci come va, come va, va. Che dirti, Guarna è un buon portiere, l'ho dimostrato nella seconda fase della scorsa stagione, però queste domande bisogna rivolgerle agli allenatori, gli allenatori rispondono con i fatti e dicono sia Mangia che Nicola gioca Donnarumma titolare, non lo so perché, devo dirti la verità, perché il Guarna che io ricordo nella seconda fase dello scorso campionato l'ho addirittura etichettato l'origine della remuntada, perché le sue parate contro Lanciano e Avellino fecero la differenza, però io più di questo non so dirti, che ne pensi Vito? Sì, no, no, è esatto, cioè è strano che secondo me sono due portiere allo stesso livello, con le stesse capacità, con gli stessi difetti, con il difetto maggiore quello di non trasmettere sicurezza al reparto difensivo. Ma comunque mi sembra strano, come dicevi tu, come Nicola, il nuovo allenatore, è arrivato a Bari e abbia confermato, quindi chi più di loro, chi più dell'allenatore può decidere e prendere decisioni contrarie a quello precedente. Se ha confermato Donnarumma evidentemente ci sono dei motivi... Io immagino che Guarna però a gennaio... Chiederà a lui stesso... Va via, in questo modo, eh? Sì. Non credo che sia disposto a stare una stagione intera a guardare. È un altro, uno di quei giocatori che possono avere mercato e quindi parlavamo prima delle disponibilità economiche di questa società. Secondo me deve vendere per poter acquistare sostituire questi giocatori che hanno deluso. Per cui Guarna è uno di quelli che potrebbe avere mercato e quindi dare liquidità alla società. Allora, Cristian Siciliani, un minuto al volo perché stiamo concludendo. Cristian, ci sei? Sì, sì, Enzo, buon pomeriggio. Ci sono. La squadra è scesa da pochissimo qui sul campo di allenamento. Ha parlato un pochino fa il presidente Gianluca Paparesta. In sostanza, ripeto, che ci aveva già detto comunque sabato nel corso di 91esimo minuto, molto contento di questa vittoria. È una vittoria importante soprattutto, ha detto, per la classifica e per il morale. Ha detto, sappiamo che ci sono comunque delle lacune da colmare. Il mister comunque sta individuando quelli che sono i problemi di questa squadra e ha detto di sicuro nel mercato di gennaio comunque interverremo in maniera comunque importante. Lui ha detto se ho commesso quest'estate l'errore di parlare di Serie A. Adesso preferisco non dire nulla e vivere alla giornata. E dunque nel mirino in latina, ha detto che ci ricorda soprattutto tante amarezze. Speriamo dunque di batterlo e di toglierci comunque una soddisfazione. Questo in sostanza è il pensiero di Gianluca Paparesta. Senti, com'è il centro sportivo della Guardia di Finanza? Il campo sportivo? È bello? L'hai visto? Sì, sì, Enzo. Molto bello. Molto bello. Erba anche buona. Erba naturale? Non è sentibile? Sì, sì, no, no. Erba assolutamente naturale. Una struttura comunque ideale per svolgere gli allenamenti. Davvero una struttura... Va bene. Domani mostreremo le immagini. Gli spalti ci sono. Assolutamente. Gli spalti ci sono? Ci sono gli spalti, sì. Anche, anche, anche. C'è una tripunetta. Va bene. Grazie a Cristian Siciliani, grazie a Vito Petruzzelli. Adesso negli studi di Telebari il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Noi ci ritroviamo domani sempre insieme col bianco e rosso Tibi Sport. Ciao. Grazie a tutti.